Presidente Monti, l'aula ha appena votato il progetto di legge sulle dipendenze patologiche, le ha detto, ha studiato molto e soprattutto è rimasto colpito da alcune esperienze personali. Sì, assolutamente, questo progetto di legge arriva dopo due anni di lavoro, è stato poi depositato in commissione, è approvato, oggi è approvato il Consiglio regionale, legge Lombarda, una legge che riforma completamente il sistema di dipendenza, aggiunge risorse, si arriva a 170 milioni di euro, la presa in carico dei minori, la prevenzione, l'aggancio precoce, insomma tante iniziative, fermi nel cassetto a Roma da troppi anni, dal 1990 all'ultima legge, ecco la regione Lombardia fa a differenza di un governo che non fa. Lei ha insistito molto sul fatto che questo possa essere poi un modello anche nazionale? Assolutamente, con questa legge la regione Lombardia, che ha già un'eccellenza nelle sue comunità, CERD, Ambulatori, SMI, diventa un riferimento nazionale, assoluto, con risorse proprie, con denari propri, finanza questa legge e aspetta che il governo faccia qualcosa, la porteremo sicuramente nei banchi di Roma, visto che poi oggi le opposizioni, che a Roma sono il governo, si sono astenute. L'ultima osservazione ha centrato l'attenzione sui giovani, soprattutto perché si sta abbassando l'età. Le tassi si sta abbassando e con questo lockdown, l'utilizzo anche di droghe, chimiche, moderne, abbiamo stanziato a proposito un milione di Euro sulla ricerca, proprio per riuscire da questo punto di vista a intervenire rapidamente in modo efficace.